Abbiamo ristrutturato edifici storici, l'edificio del museo civico, realizzando un infopoint turistico. E poi il depuratore, dove nessuno era mai riuscito. Un'opera fondamentale e strategica per lo sviluppo della città. Noi, grazie ad una serie di azioni amministrative, ci siamo riusciti. Il depuratore oggi è realtà. E poi il nuovo burgo marinale, con una bellissima spiaggia bamneare, una nuova strada e la nuova piazza di Santa Maria del Mare. Nuove attività imprenditoriali sono surte e altre ne stanno sorgendo, incrementando turismo e posti di lavoro. Abbiamo lavorato senza sosta, giorno e notte, per realizzare tutto ciò. Un lavoro che è servito a fare diavola, una città più vivibile, una città turistica, una città migliore. La forza dei fatti. Abbiamo mantenuto le promesse. Per continuare a fare, l'11 giugno, vota Luca Cannata. Per continuare a fare, Luca Cannata. Salvo. 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 Grazie.